364 giorni, quasi un anno da quella 20 febbraio che costò la vita a Pierpaolo Pansieri. Oggi presso il Tribunale di Pesaro, l'udienza che ha visto le dichiarazioni di Michael Alessandrini. L'imputato che voleva dire la verità, quando è arrivato il turno di fare le domande da parte mia, mi ha detto che non voleva rispondere, che non voleva vedermi in faccia. Devo dire che è una situazione che non è nuova per quanto mi riguarda, è già capitato in altri imputati poi condannati che si rifiutassero di sottoporsi al mio esame. Ma credo che l'accusa di omicidio pluriaggravato nei confronti dell'imputato ne esca più che rafforzata, in modo granitico. spesso quando viene messo in difficoltà il signor Alessandrini si rifugia dietro il presunto delirio di Dio che gli ordina di fare cose e di dire cose. E' stato chiamato in causa anche quando io ho cercato di fare qualche domanda, di chiedergli, semplicemente perché avesse paura di rispondermi. E' chiaro che Alessandrini è consapevole perfettamente del fatto che ha raccontato un sacco di bugie, oggi come allora. Ed è chiaro che noi, l'avvocato Biancofiore, l'avvocato Galeone, non siamo lì, e anche il pubblico ministero, per farci prendere in giro. Ha fatto delle dichiarazioni spontanee all'imputato, poi ha chiesto di poter essere sottoposto all'esame, quindi è stato esaminato prima da noi e poi dal pubblico ministero, mentre ha inteso non ce l'ha fatta più perché è stanco di cervello e quindi è voluto tornare in carcere. Non ha cambiato assolutamente nessuna versione, ha integrato con alcuni elementi riguardanti lo sviluppo e lo svolgimento dei fatti e su quelli poi adesso ragioneremo. Ha fatto delle dichiarazioni che non erano mai emerse finora, per un discorso di, lui ha detto, di pudore, di rispetto anche verso la stessa vittima, però è venuto fuori che lui provava un sentimento per Pierpaolo. Sentimento che non gli aveva mai, fino a quel momento, manifestato. La sua intenzione era quella sera appunto di tradurre questo sentimento in fatti concreti e, da quello che ha riferito appunto l'Alessandrini, quella sera si è sentito da un lato deriso e dall'altro lato rifiutato da Pierpaolo. Questo sicuramente ha fatto scattare in lui quell'ulteriore rabbia e quindi fino a giungere all'azione appunto omicidiaria. Riteniamo noi come difesa che la sticella si sia spostata verso un delitto di tipo passionale e nello stesso momento di un delitto d'impeto. Oggi ne siamo ancora più convinti che non vi era premeditazione. Una tragedia che ha unito ancora di più i familiari e gli amici di Pierpaolo, che proprio domani, in occasione di un anno dalla sua scomparsa, si riuniranno per ricordarlo. La coincidenza ha voluto appunto che fosse proprio oggi, che sono passati 364 giorni, quindi quasi un anno, e forse è abbastanza simbolico, è anche un po' una messa alla prova per noi. Però siamo qui tranquilli, fiduciosi per la giustizia e più che altro siamo qui per stare vicini a Laura, Gianmarco e a Pietro, alla famiglia di Pier. Domani lo ricorderemo stando tutti insieme, facendo una bella cena tutti insieme a casa di Laura e Gianmarco. Come facciamo da un po' di tempo a questa parte, con ricorrenza mensile quasi. Ci siamo avvicinati molto, stiamo insieme parecchio anche per piacere e quindi staremo insieme, festeggeremo sicuramente. Sicuramente una cosa da non dimenticarsi di fare è che avrebbe voluto lui per primo che facessimo è farsi una bella risata davanti a una pizza, un bicchiere di vino, molto semplicemente.